Siamo sulla Statale 526, tra Robecco e Subunviglio a Via Tegrasso, a Cassinetta di Lugagnano, dove un camion ha sbandato ed è andato a sbattere contro il muro di un cascinale di Cascina Campo, battendone una parte e ferito l'autista di questo furgoncino sul posto sono giunti numerosi mezzi di sopporso, i vigili del fuoco, l'ambulanza automedica e i carabinieri per i rilievi. Rilieva anche lei? Spesso c'è i carabinieri.